La memoria per le vittime dell'olocausto per sconfiggere qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione razziale, dunque il mondo del calcio dilettantistico non è resta indifferente con lo scopo principale di formare le nuove generazioni anche attraverso il ricordo di una delle pagine più buie della storia mondiale perché solo ripercorrendo il passato si può sperare in un futuro libero di sentimenti di odio e brutalità. In occasione della giornata internazionale della memoria il comitato regionale LN di Abruzzo è sceso così in campo nell'ambito di un'iniziativa che ha visto coinvolte numerose città d'Italia da Milano a Roma, Verona, Trieste e via dicendo con l'Abruzzo che ha indicato Palena, il letto Palena come luoghi eletti alla diffusione del messaggio di speranza. Montagne d'Abruzzo che nella seconda guerra mondiale hanno sofferto morti, feriti, disagi nel pieno della linea Gustav che hanno rappresentato la primogenitura della resistenza con i partigiani della Brigata Maiella. Con l'ausilio di un fumetto elaborato da Aragon, gli allunni e le alunne delle scuole dei centri montani del Mediosangro hanno così ripercorso quella pagina di storia. Torra Bendotti responsabile per l'Abruzzo del neonato dipartimento sociale della LND. La Lega di Lettanti ha voluto portare nelle scuole e quindi nei territori delle immagini significative quindi attraverso la narrazione grafica di un campo da calcio e un campo da calcio che purtroppo scompare all'interno dei cancelli di Auschwitz. Questo come spiegazione, come ricordo che purtroppo è stata una pagina storica e culturale che ha colpito tutti, ha colpito lo sport, ha colpito famiglie, ha colpito società. Sono immagini che devono rimanere immagini e soprattutto non devono essere neanche minimamente più pensate. Riflessioni, domande, considerazioni, pagine di storie e di orrori da raccontare, approfondire in un giorno simbolo che deve richiamare tutti a nuove consapevolezze, Ariel del Monaco e vice sindaco di Letto Paleno. L'importante è che i ragazzi sappiano cosa è successo e appunto l'importanza che hanno avuto anche questi luoghi, luoghi che appartengono a loro. E che non devono perdere la memoria. E che non devono perdere la memoria, che appunto debbano ricordare cosa è successo e non dimenticarlo mai, perché è una pagina tristissima della storia. Il territorio avventino dunque ha abbracciato con tutte le proprie forze l'iniziativa della LN di Abruzzo, con la gratitudine di aver scelto proprio i monti d'Abruzzo come luogo di testimonianza. La nostra terra, luogo simbolo della memoria. Un onore ospitare questa iniziativa, come afferma il sindaco di Paleno, Claudio De Mirio. Riempi di orgoglio perché vedere un paesino di 1250 abitanti insieme a città così blasonate e così importanti a livello nazionale non fa altro che riempirci di orgoglio. Ma questo devo veramente ringraziare tutti quei cittadini attivi che quotidianamente si impegnano nelle associazioni, nell'associazionismo a favore di tutti quanti senza farne lucro. Quindi con la loro passione e con il loro tempo e come dico l'Italia ha la grandissima fortuna di avere questa associazione che permettono poi questi risultati. Il mio applauso e il merito, oltre che la LND e la FIGC, ma soprattutto a queste persone attive.